Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Fremole San. Oggi siamo in questo nuovo video del 2017 e sì, sì, sono tornato alle origini. Non mi bastava il capello fierozzo di più o meno il taglio che avevo un po' di tempo fa, in realtà non è proprio lo stesso taglio che portavo un po' fa, ma comunque siamo lì. Ma anche la barba, sì, sì, anche la barba. Ma non siamo qua per parlare di questo. Oggi siamo qua per parlare di Inside, il disco di Bo Barnum, un artista molto giovane che parla molto di internet, di cose moderne, un artista molto moderno, di un album realizzato in quarantena, completamente in casa, come si può vedere dalla copertina e dal retro copertina. molto, molto carini a mio parere, anche se ho notato adesso una cosa che mi fa malissimo al cuore. Guardate, guardate qua, porca puttana, si è proprio distrutto. Madonna, si è rovinato subito, eh? Questo si è veramente rovinato subito, è molto fragile. Comunque, guardate, a me non dispiace... Iniziamo subito con la recensione. Come copertino non mi dispiace affatto. Considerando anche il contesto, nel senso che perché c'è questa copertina, che comunque funziona, cioè si capisce un po' anche dal titolo, all'interno, no? Carina. Anche il retro copertino, devo dire, è molto affascinante, che mostra un po' l'etroscena, e guardate che bordello, porca puttana. Fighissimo, molto, molto figo, tra l'altro. Mi piace molto che la costola riesce quasi a collegare le due parti, anche se in realtà fa parte di questo lato qua. Comunque si collega bene, anche di qua. Cioè, si vede che è staccato, però i colori sono quelli. Molto carino. Andiamolo ad aprire. E ci ritroviamo il grande Bob Arnam, che dorme col microfono davanti. E con un inquadratore dall'alto, che si vede da qua. Molto bellino questo tema, questo tema, diciamo, questi elementi che ricorrono, diciamo che ha cercato di dare un po' di varietà alla stanza, di far vedere il macello che c'è in cam... Questo secondo me, ragazzi, sì, magari è un po' organizzato, ma secondo me è veramente il macello che c'era in camera sua durante la realizzazione di questo album. Non so, come l'impressione che sia tutto naturale. Non mi sembra così tanto messo apposta, vi dico la verità. Comunque funziona, sono delle belle foto. Cioè, sono foto... Non sono delle belle foto che ti fanno dire wow, bella. Però sono carine. Sono molto carine. A livello di colori, mi piacciono molto. Ed ecco qua, scusate, il cd. Molto semplice, estremamente semplice. Sfondo bianco, scritta nera. Tra l'altro, il minimo delle scritte che poteva inserire, cioè, ha dovuto purtroppo inserire queste. Forse sarebbe stato figo, senza questa scrittina sotto. Bello, proprio minimalista al 100%, però, a prezzo. Il minimalismo funziona quando c'è soprattutto i font buoni e non è brutto da vedere. Così ci sta. Anche se è un po' sproporzionato, perché se io guardo il cd così non c'è scritto niente. Invece è tutto scritto qua. Però, beh, niente di che è carino. Discorso diverso, invece, se parliamo del libretto, che anche questo è abbastanza minimalista, con una sola scritta, che è quella che c'è sul cd, Bob Arnam Inside, però con una foto dietro. Bellissima. Questa poteva potenzialmente, secondo me, essere la copertina dell'album, e invece è stato deciso di dare un po' di confusione all'interno della copertina. È la stessa stanza, però in una c'è un botto di casino, in una c'è veramente il minimo. E mi piace veramente tanto questa contrapposizione, cioè ti fa vedere la stessa stanza, ma ti dà totalmente un'impressione diversa. Questa ti dà quasi inquietudine, perché è sbagliato, c'è troppo poco. Però allo stesso tempo è carino, perché sembra un palcoscenico, no? L'esibizione del pianoforte, però ci sono degli elementi che ti fanno capire che sei all'interno di una casa, ovvero la sedia approssimativa, questo non è un pianoforte, ma è una tastiera, questo cos'è un mobile? Si capisce? Una schifadina? Non riesco a capire la forma di questo aggeggio. Cos'è? Io penso sia tipo un tavolo. Questa serrandina, questa porta so chiuse da cui si intravede la luce. A livello di colori, a me piace un botto a livello di colori e di illuminazione. Molto, molto canza. C'è veramente una foto che se avessi scattato io avrei detto, cazzo, molto, molto bellina, la vorrei usare come copertina di un album. Quindi, GG, bellina, bellina. Andiamo ad aprire, vediamo cosa c'è dentro. e qua, ecco, qua iniziano i veri e propri colori. Qua inizia la varietà, la fantasia, effettivamente. Il condizionatore qua. Fai dire, ma si vede anche qua? Sì, però non si nota. Che cazzo è? Con la falla da discoteca, stupendo. Cioè, è bellissimo. Ha proprio allestito di palcoscenici, dentro camera sua. Stupendo, veramente stupendo. Un cinema, praticamente. Molto bellino. se non sbaglio è tipo preso dallo skit che c'è in Welcome to the Internet. Che non so in realtà se è uno skit che è stato utilizzato in altre canzoni. È l'unico skit che ho visto. stranissima questa. Questa veramente non si capisce l'ambientazione, è tutto buio. Stupendo questo. Bellissimo. non posso girare. Eccolo qua. Eeeh, figata. Sono veramente belline queste foto. E poi l'ultima. Di nuovo inquietante. È praticamente uguale alla copertina, però senza tastiera, con lui sulla sedia. Stranissima questa. Fighissimo che ci abbia il ciuffo che è dentro questa piccolissima area di luce. Figo. ASCAP. Ok, il design non l'ha curato lui. Alex Calat C. No. Ok. Comunque figo. Veniamo a cosa c'è. Ah, è qua. Fighissimo. Lui molto bellino. È stato beccato a uscire fuori. Con una luce delle bellicotterie dalla polizia. Stupendo. Veramente Guns. Credo rappresenti quello. Bellino. Bellino, veramente bellino. Allora, intanto vi dico che molto bellino, ok, sono le immagini che mi sono piaciute molto, però a livello di contenuti non è incredibile, nel senso non ci sono neanche i testi, tra parentesi. Sono foto, scusate, però vi rimetto a posto, sto cercando, eccoci, sto cercando di posizionare tutto. Sono foto che comunque ci stanno, sono molto carine, ti puoi mettere a guardarle, però non non lo so, non sono foto, ok, in generale a me gli album dove invece dei testi, cioè non ci sono i testi e ci sono soltanto foto di base non mi fanno impazzire. Devo dire che qua però c'è una buona selezione di foto che c'entrano tutte comunque col tema dell'album ed è un bell'album fotografico effettivamente, a differenza per esempio, mi vengono in mente per fare un esempio, flop di Salmo che conteneva tutte foto ma erano foto generiche, cioè c'era la foto della copertina effettivamente vista più in largo se non sbaglio, per il resto era un set fotografico in un set fotografico, quindi con sfondo neutro e luci e fotocamera via, facciamo un po' di foto a caso con lui che si metteva in posa. Qui invece abbiamo il tema del inside del voler dire sono in casa chiuso in camera ma posso fare tanto e posso fare tanto anche a livello visivo posso fare posso avere una varietà bellissima di cose grazie principalmente alla tecnologia cioè è la tecnologia ormai fuori sta piovendo di brutto ormai è la tecnologia che ti permette di fare musica seriamente da casa cioè con la tecnologia di adesso te lo puoi permettere se hai ma anche se non hai strumenti in realtà se hai una tastiera come quella che ho io un programma per fare musica che può essere U-Bass come può essere un FL Studio o un qualsiasi cosa puoi produrre il cazzo che ti paga sostanzialmente anche senza strumenti la tecnologia ti permette di fare questo finita in quarantena potresti appunto tirare fuori un album come ha fatto Bob Arnam e quindi con la tecnologia puoi anche viaggiare all'interno della camera e vedere tanti posti diversi che ti trasmettono sensazioni diverse e soprattutto la maggior parte erano dei palchi ok erano allestiti come se fossero dei palchi poi c'era anche la discoteca con la palla della discoteca che illuminava tutto c'era la luna quindi come se fosse appunto qualche era di luna molto bello molto suggestive come immagini tutte ambientate dentro la stessa stanza questo è molto ganso peccato non ci siano i testi quindi andiamo un attimo a analizzare perché qua è difficile allora a livello di concept e di design in questo caso siamo abbastanza a un buon punto non un punto incredibilmente alto perché comunque io in concept e design diciamo che do voti alti allora il voto altissimo te lo do se è proprio un'idea incredibile che mi va totalmente a stravolgere il senso di album nel senso allora io ho dato voti alti al concept e al design per esempio a sfera e basta mi veramente mi piange il cuore a dirlo che è uno dei pochi che ha preso un voto alto proprio perché aveva avuto un bel concept che praticamente l'album era dentro il cofanetto era una praticamente una piccola scatola per la pizza proprio di cartone che si apriva con una scatola per la pizza il che è geniale a livello di concept è veramente ganso ho dato un voto buono a per esempio willy peyote perché è tutto in tema supermercato io degradabile sto parlando è tutto in tema supermercato e all'interno dell'album c'è il libretto dei testi che non è un libretto bensì un volantino molto grosso tipo un poster con per ogni canzone un oggetto in vendita e il prezzo che equivale alla durata della canzone geniale io queste trovate premio oppure l'esempio che prendo sempre perché è il primo in classifica ma volevo lasciarlo stare effettivamente voglio spiegare perché sia prima in classifica rancore con xanoverso che ho premiato perché all'interno dell'album ha messo un album di figurine che è incredibile oltre a tutta la questione del concept dell'album che è fantasioso e all'interno del libretto ti spiega tutto questo mondo proprio con delle illustrazioni precise qui in questo caso sono delle belle foto delle belle foto che seguono bene il titolo e il tema dell'album il tema più che tema più che altro tutto ciò che c'è dietro all'album ok inside dentro chiuso in camera in quarantena puoi viaggiare in questo modo figo molto figo quindi dopo tutto questo arrazzegogolio diciamo che a livello di concept e design gli do un sette e mezzo non voglio andare oltre perché comunque figo però io il voto altissimo lo do per queste ragioni che vi ho detto prima il voto abbastanza alto lo do se te riesci tramite le immagini tramite i simboli e tramite appunto come sviluppi il tutto a trasmettermi alcune cose e a raccontarmi in questo caso un po' c'è questa cosa qui infatti non gli ho dato un voto basso se fossero state foto generiche gli avrei dato molto meno però non c'è non è che ogni foto ti vuole raccontare qualcosa di specifico almeno non mi dà questa impressione mi sembrano più che altro foto molto carine nello stesso contesto ma che ti fanno appunto vedere cose completamente diverse molto bellino mi dirò sette e mezzo a livello invece di contenuti diciamo che qua gli ho voto un po' più basso perché come detto prima non ci sono i testi è un pochino scarno cioè allora c'è in realtà roba perché ci sono tante foto ci sono tante immagini quindi in realtà non è scarno perché puoi stare un pochino a sfogliarti e a vedertelo tutto però una volta finite le foto basta cioè non c'è nient'altro non puoi fare un'analisi un po' più approfondita capito quindi diciamo che gli do un sette in questo caso quindi sette e mezzo con sette design sette per i contenuti media del sette più ci sono mi sa tantissimi album che io penso che hanno sette più però ragazzi è su 40 cd che ci volete fare è normale che un po' i voti si vadano a ripetere ovviamente quindi niente è molto carino come album non mi fa gridare al genio cioè un pochino me lo fa fare perché apprezzo molto appunto ripeto per l'ennesima volta questo girare intorno al fatto della quarantena e della chiusura tra l'altro ti conclude con l'immagine dietro al libretto che è l'unica immagine scattata fuori ecco è carina questa cosa che te mano a mano che lo vai ad approfondire c'è sempre un innalzamento più alto del limite cioè te vedi la copertina te devi retta la copertina vedi questa stanza lo apri vedi il pavimento della stanza con lui apri prendi il libretto c'è sempre la solita stanza la solita cosa apri il libretto e ti rendi conto che quello che hai visto finora che dicevi sì ok sarà all'infinito questa stanza mi farà vedere forse gli oggetti che ci sono all'interno e invece no invece ti stupisce e ti fa vedere ho il capello e ti fa vedere che quella stanza cambia vertiginosamente e non una volta bensì diverse non mi ricordo quante pagine sono ma ogni pagina ti cambia sembra che cambi completamente l'ambientazione pur rimanendo nel solito posto questo è molto carino quindi forse mi sento un po' in colpa per avergli dato 7 più però ormai ragazzi questo è il voto purtroppo vabbè tanto in cima alla classifica non sarebbe mai andata a me più che altro interessa posizionarli questi album più o meno all'interno della classifica poi 7 più 7 e mezzo 8 meno alla fine sempre lì rimane un po' nel mezzo va bene quindi niente questo era Insight di Bob Arnam complimenti bellissimo album anche a livello musicale molto molto carino soprattutto considerando che ho fatto da una persona sola è veramente ganso poi vabbè mixing mastering come avete visto alcuni aspetti sono stati curati da terzi ma è normale però a livello musicale le idee sono sue a livello di testi le idee sono sue è molto fantasioso molto divertente soprattutto vi invito ad ascoltarvelo se avete una buona comprensione dell'inglese volete farvi due risate e se soprattutto vi piace un pochino il no sense se conoscete un po' roba di internet diciamo ci sono tante cesazioni internet anche racconti un po' più privati anche un po' più seri però tendenzialmente è un album comico molto molto bellino quindi niente è stato un piacere illustrarvi di nuovo questo cd cd di nuovo nel senso un'altra volta un altro cd e noi ci vediamo prossima settimana con chissà quale cd e domani con un altro video di tetris se non sbaglio martedì è il giorno del tetris sì martedì è tetris vabbè c'abbè grob limits